ben ritrovati vediamo cosa ci attende nella prossima settimana si apre una settimana con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge rovesci anche temporaleschi in attenazione dal pomeriggio schiarita in serata durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 13 gradi la minima di 11 i venti saranno tesi al mattino vi ringrazio per l'attenzione vi auguro un buon weekend